Il segno tangibile della festa, espressione della carità pastorale di Don Bosco, nutrire lo spirito e anche il corpo. Nelle case salesiane è una tradizione, il panino con la mortadella. A Ruvo di Puglia rivive nel giorno in cui si ricorda la figura del santo che inventò l'oratorio. Succede all'Istituto Sacro Cuore, scuola di formazione professionale. Per Don Bosco la fiducia nel ragazzo, la fiducia nei suoi talenti, anche quelli nascosti, è la chiave perché ogni educatore possa tirare maieuticamente, direi, dal di dentro il meglio di ogni ragazzo. Nella pedagogia di San Giovanni Bosco i momenti di festa diventano fondamentali. Al centro la formazione e le competenze per entrare nel mondo del lavoro. Don Bosco arriva a dire, noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Quindi proprio la misura più alta della vita, secondo il Vangelo, la santità, parte dallo stare allegri, che non è certo una sfida piccola. Scuola e laboratori, questa la sfida del futuro. Formare cittadini competenti, capaci di affrontare la realtà e il mondo del lavoro, portando dentro tanta fiducia in se stessi, tanta fiducia anche negli adulti perché qui sperimentano di essere accompagnati da adulti significativi.